C'è una credenza sull'isola d'Ischia, un'antica credenza che dice che il giorno di San Giovanni, il 24 giugno, non si deve fare il bagno a mare. Gli antichi dicevano che ci sono i coltelli a mare. Allora noi ci siamo regati presso lo studioso di cose ischitane di storia dell'isola d'Ischia, Giovanni Di Meglio, al quale voglio chiedere come mai c'è questa, da che cosa affonda questa credenza? Da un fatto storico, ben preciso, ben documentato, perché nella notte tra il 23 e il 24 giugno del 1541, se non sbaglio, sbarcarono ai schiacuitati dal corsaro Ariadeno Barbarossa, i colossari, i saraceni e fecero una strage, poiché tutti si preparavano a festeggiare, tutti gli schitani, addirittura a Buonopane c'era la festa padronale, i corsari che cosa fecero furbamente? Sbarcarono sia alla spiaggia di Citara, a Forio, e sia alla spiaggia dei Maronti. Poi da questi due lati presero nel mezzo tutti i contadini popolari che festeggiavano, quelli del versante, diciamo così, di Ischia, Casamicciola, ebbero tutto il tempo di essere avvisati e di salvarsi. Gli altri invece vennero presi, prigionieri, se erano donne o ragazzi che potevano essere venduti al mercato degli schiavi, mentre gli anziani vennero ammazzati. E si dice che vennero ammazzati ben due o tre mila schitani, quindi specialmente i primi ad essere ammazzati e quelli che festeggiavano sulle spiagge. È un bagno di sangue, perciò ci si dice che a San Giovanni ci stanno i coltelli al mare, perché veramente vennero scossati molti nostri concittadini. Grazie.